Allora ragazzi un attimo di attenzione Si vede bene Marco? Oggi abbiamo l'onore di avere qui il babbo di Castel Così dobbiamo consegnare il babbo di Castel In inglese Noi ci vogliamo congratulare con la terna arbitrale Per il match proviamo di vincere e vincere con la nostra squadra che è sempre forte e preparata per la battaglia Comunque dobbiamo dire che abbiamo combattuto con una squadra che ci ha dato gran filo da torcere fino all'ultimo minuto E così oggi il premio per il mammocio del match Va Alberto Bonifazi Grazie 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 per questo match e per tutta la season E per tutta la stagione Ha scelto 10 trenti con la trattata di oggi 11 trenti Grazie 11 trenti Grazie 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 A Alberto Bonifazi E sempre Forza L'Aquila E sempre Forza L'Aquila E ora maniemo se la peca